Io resto al terzo polo, vado a ciocchetti, che condivide del manifesto della FIAIP, di questi undici punti? Cosa prendete nel vostro programma elettorale? Beh, condivido parecchie cose. Ci sente? Sì, penso di sì. Condivido parecchie cose. Chiaramente io penso intanto che sarebbe il caso che col Presidente Righi e con le altre organizzazioni che sono qui presenti ci sia la possibilità di incontrarci il 26 febbraio, perché oggi qui è facile fare promesse, è facile dire siamo d'accordo su tutto, è facile dire abbassiamo e togliamo tutta. C'è un'agenda per il 26 febbraio Presidente. C'è tutte le tasse che sono sugli immobili, però credo che un ragionamento serio nel merito delle questioni e anche avendo più tempo sia necessario farlo, Presidente. Quindi lancio questa opportunità, oltretutto confrontando anche il lavoro che ciascuno di noi ha fatto anche nelle esperienze comuni. Penso, l'onorevole Mantini parlava della rigenerazione urbana. Io nel Lazio ho fatto un'esperienza di questo genere, avendo fatto una legge che ha prodotto semplificazioni con riutilizzo degli immobili dismessi, con un cambio di destinazione diretta senza dover fare interventi di varianti urbanistiche che hanno bisogno di 10 anni, di semplificazione per cui il risultato e il referente è un soggetto solo istituzionale e non 50 pareri come in qualche modo oggi purtroppo per la legislazione italiana a livello nazionale si è costretti a fare. Poi si parla di abbattere la corruzione. Per abbattere la corruzione c'è bisogno di un unico referente e non 50 pareri diversi che vengono espressi da 50 enti diversi in cui si annida tutto quello che in qualche modo blocca la possibilità di intraprendere, di scommettere e di sviluppare. E' chiaro che c'è bisogno di fare un'operazione importante di riqualificazione, lo dice il sesto punto delle proposte della vostra organizzazione. Credo che sia un punto su cui bisogna lavorare, bisogna fare una legge nazionale cornice che sia in grado di dare gli stessi indirizzi in tutte le regioni e in tutte le amministrazioni. Riqualificare il patrimonio significa creare un nuovo modello di sviluppo nel campo dell'edilizia e dell'urbanistia consumando meno terreno libero ma nello stesso tempo anche creando occasioni di lavoro, di occupazione, di messa a regime, di riutilizzo di un patrimonio edilizio l'invenduto ma anche tutto quello che in qualche modo va rigenerato attraverso meccanismi di risparmio e di ridefinizione. Credo che sia necessario, l'ha spiegato bene il collega Mantini, l'Imu nasce per rispondere ad un'emergenza, che sia una tassa iniqua, siamo tutti d'accordo e quindi che va assolutamente rimodulata. Che si possa dire qui che verrà eliminata totalmente, credo che sia davvero una promessa vana. Invece la rimodulazione si può fare, si deve fare, soprattutto sia sul patrimonio invenduto, si deve rifare sul discorso degli immobili che vengono utilizzati per produrre lavoro e occupazione che invece oggi sono tassati e considerati seconda casa e quindi che hanno le aliquote più alte fino al 10,6 per mille e quindi tutta una serie di interventi, oltre chiaramente il tema della prima casa con l'aumento delle detrazioni sia un fatto assolutamente da rivedere e sia uno dei primi punti che nella prossima legislatura avendo in qualche modo messo in sicurezza i conti dello Stato sia possibile, avendo abbattuto anche di qualche miliardo i tassi di interesse che l'Italia era costretta a pagare fino a 14 mesi fa, sia possibile trovare le risorse per poter fare interventi di questo genere. Non c'è dubbio che anche la lotta all'abusivismo del vostro settore sia un fatto assolutamente fondamentale e quindi che bisogna inasprire le norme di tutela per il lavoro anche per il lavoro di garanzia che dovete dare nei confronti dei colleghi, c'è poi tutto il tema del credito che credo sia una delle grandi questioni su cui bisogna ragionare non in termini polemici ma in termini di trovare le soluzioni per riaprire la possibilità del credito che credo che sia insieme alla tassazione, insieme alla sfiducia che si è creata nel nostro Paese da parte di tutti gli investitori, dei cittadini, delle famiglie e degli imprenditori il tema del credito sia uno dei temi centrali su cui dover lavorare anche attraverso forme di garanzia che da parte dello Stato, da parte delle regioni possono essere messe in campo per poter riaprire lo sviluppo su un mercato edilizio che è assolutamente fondamentale per far ripartire l'Italia. Sì, poi il tema del credito attraversa come preoccupazione tutte le categorie produttive